Un caloroso saluto dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Oggi si affrontano Bayer di Monaco e Juventus. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marcheggiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. E ora ascoltiamo l'inno ufficiale della UEFA Champions League. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'inno ufficiale della UEFA Champions League. Queste dunque le scelte degli allenatori. Quindi è un 변那么on, ci sarebbe arrivare la regionale della UEFA Champions League. andiamo in via la partita Luca secondo te chi può fare la differenza oggi? sicuramente il piccolo grande Philippe Lann giocatore fantastico io credo che ci siano pochi giocatori intelligenti e tutti come lui in circolazione è preciso, passami la battuta, come un orologio svizzero in tutto quello che fa dai passaggi, agli inserimenti, al lavoro di contenimento immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto a protezione della tua porta caro Luca di bala situazione spinosa ma il suo intervento è stato provvidenziale contrasto irregolare dunque calcio di punizione Robben Hüller Vidal Robben Douglas Costa cerca la profondità sulla fascia ottimo dribbling occhio a cross pallone in avanti Guadrado cerca ancora una palla profonda riceve il passaggio posizione regolare tenta il traversone Mandzukic buona lettura difensiva, il cross è stato respinto bel tiro sono andati vicini al gol che tiro qui la palla ha proprio sfiorato il palo vuole la profondità quadrado c'è il fisco dell'arbitro e fallo attenzione all'arbitro che sta in cartellino giallo è giallo Raffinia Douglas Costa nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol all'arbitro che sta in cartellino allarga sulla fascia quadrado hanno ottenuto un fallo laterale Miller Raffinia Chedira grande tecle Licksteiner cerca di superare la difesa con questo pallone lungo la difesa riesce a spezzare l'azione il portiere si fa trovare pronto bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza non stavolta però Chedira cerca spazio palla intercettata ottimo il suo senso della posizione Lewandowski la mette sulla sinistra Costa vediamo se è crossa prova la giocata nello spazio Miller palla per Robert pericolo Mandzukic Chedira quadrado intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa prova a tiro al volo pallone che ha superato la linea sarà però semplice rimesso da fondo prova il filtrante ottimo passaggio deve tirare di bala occhio a cross e la difesa non si fa cogliere in preparata Douglas Costa Raffigna e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco Marchisio cerca la profondità occhio al lancio lungo c'era un po' a teng questo sarebbe Piramitte il momento perfetto per sbloccare il risultato e andare a riposo in vantaggio Mandzukic vuole la profondità ha la possibilità di andare verso la porta prova il tiro molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta hanno sfruttato benissimo il barco centrale procurandosi una grande occasione Raffigna Raffigna Douglas Costa cobrano bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia cerca spazio Mandzukic prova ancora palo e non trova la porta davvero per pochi centimetri aveva fatto tutto molto bene tiro compreso è stato davvero sfortunato a prendere il palo Lam Robben Müller Douglas Costa la gioca a sinistra Costa Quadrado prova la giocata nello spazio riceve un pallone interessante Girón Boateng sproglia la situazione primo tempo che si conclude dunque qui finale di tempo è stato impressionante è vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria nessuno ha trovato il gol si chiude 0-0 a primo tempo e dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sulla 0-0 Buonucci Licksteiner prova il filtrante Neuer allontana il pallone Raffinia qui non prende il pallone qui non prende il pallone ovviamente fallo Vidal fallo calcio di punizio si avvicina al difensore l'arbitro attenzione perché era già ammonito e infatti ecco il secondo cartellino a giudicare da quanto abbiamo visto però c'è ben poco da protestare Vidal passaggio in avanti cerca spazio e trova bene il compagno attenzione al tiro tiro da dimenticare Giron Buateng cerca di pescare il compagno là davanti Pogba Vidal Lewandowski Lille vuole la profondità ecco Manzu 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 Può metterla in mezzo c'è il cross è mancata un po' di precisione avevano molte opzioni in area di rigore questo è il modo di attaccare Lam Tegel feroce prova la giocata nello spazio bella palla deve approfittarne grande giocata di Manzu c'è voluto un po' ma adesso sono in vantaggio e non poteva mancare un'occasione del genere un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne 1-0 dunque qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore ha funzionato 1-0 siamo arrivati al sessantesimo prova la giocata nello spazio c'era un buateng Vidal Robben Müller ancora un ottimo intervento difensivo Marchisio prova la giocata in profondità Vidal la mette sulla sinistra Robben tocco preciso attenzione e il pallone finisce in rete una conclusione assolutamente imparabile credo che non abbia nemmeno guardato la porta la sentiva ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto perfetta parità dunque si sono fatti cogliere in un momento di distrazione stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo Müller prova il filtrante Douglas Costa Palla giocata in profondità Palla giocata in profondità Occhio può andare circa il tiro e non è riuscito a trovare il gol era una grande occasione ci è mancato poco per trovare ancora il gol è un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone Robben autore di un assist oggi Lange e verrà circa ancora una palla profonda Lange Girondoteng Alaba Müller Costa Müller Chedira Tega il feroce Cerca spazio Manzu Grande azione tutta la squadra si è mossa perfettamente con i tempi giusti ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede Adesso conducono anche se solo con un gol di scarto Vantaggio meritato ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso Müller Palla profonda a cercare lo spazio Müller Palla in profondità La Juventus Aspetta solo il trebice fischio dell'arbitro Prova la giocata nello spazio Ha spazio sulla fascia Manzu Manzu La palla entra in aria Troppo lungo Non ci può arrivare Troppo Bene Questi sono gli ultimi minuti di gioco Non devono sprecare tempo in questo possesso palla Vuole la profondità Conclusione Hanno trovato il gol Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita Fantastico Questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita Lam Mandzukic Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Occasione Attenzione Buona In gioco Girón Buateng Spazza via prontamente E l'arbitro dice che può bastare Una vittoria convincente Una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra Oggi è andato tutto per il verso giusto La squadra aveva dimostrato durante la stagione di aver difficoltà Soprattutto ad andare in gol fuori casa Non c'erano mai riusciti Oggi sono stati bravi a farlo E il fatto di aver portato a casa l'intera posta Darà fiducia per il proseguo della stagione